Musica Una buonasera a tutti i tifosi bianco-rossi, un benvenuto ad un'altra puntata di Monzalè che vedrà ospite il nostro caro Marco Basoni, buonasera Marco Buonasera a tutti i nostri amici monzesi Riscossa chiedevamo nella puntata di settimana scorsa e riscossa c'è stata al partenio Marco L'abbiamo proprio tirata coi denti quasi invocando la partita proprio della vita e la vittoria è venuta contro ogni tipo di pronostico, adesso lo diciamo chiaramente perché le nostre erano classiche speranze e invece tante volte nei momenti in cui proprio non te l'aspetti è arrivata questi tre punti importantissimi ad Avellino che però saranno ancora più importanti se questo tipo di risultati avrà un proseguimento un seguito con risultati positivi magari a partire proprio da domenica pomeriggio quando arriverà una delle big del Girone, il Taranto e anche qua ovviamente diamo proprio tutto, facciamo tutto il nostro sforzo perché il Monza possa fare anche una grandissima prestazione come quella che ha fatto d'Avellino anche con la seconda in classifica Prima di vedere le immagini della vittoriosa partita dei Biancorossi in quel di Avellino ricordiamo i nostri contatti monzale.gmail.com mandateci numerosi cari affezionati Biancorossi la vostra formazione del secolo, i vostri 11 Biancorossi del secolo continuiamo a raccogliere le vostre mail e alla fine del campionato stileremo la classifica finale su chi merita di occupare gli 11 posti di 11 titolari nel Monza del centenario dicevamo appunto delle immagini del partenio dove abbiamo visto uno Zlatan Tiboni lo abbiamo ribattezzato nella puntata di martedì di Sport Davis le due reti gioiello messe a segno dal numero 9 Biancorosso speriamo che si sappia replicare come giustamente ti auguravi domenica contro il Taranto anche se sarà difficile ma ritorniamo a gustarci i gol del Monza in quel del partenio al bivio più importante del suo campionato l'Avelino si presenta distratto e scarico mentalmente finendo per schiantarsi contro un Monza disperato che fa sua la partita e riporta i bianco-verdi con i piedi per terra la squadra erpina, ad iniziare dal tecnico Bucaro dà l'impressione di pensare già alla gara di recupero di mercoledì prossimo contro la Provercerri commettendo un grosso rano errore di valutazione per accorgersene ai pochi spettatori del partenio Lombardi bastano meno di 6 minuti l'azione corale del Monza è da applausi così come il taglio di Jacopino per Tibboni che gela Fumagalli la reazione dei padroni di casa esteri riproduce solo un cross di Pezzella su cui D'Angelo si vede ribattere la conclusione e un tiro qualche minuto dopo fuori aria di Malacari che non crea problemi a Castelli al trentesimo però il portiere ospite è fortunato sul sinistro a giro di Millesi che fa la barba al palo l'azione scuote un po' Lavellino che ci prova con una girata di De Angelis al trentaduesimo ed un minuto dopo si mangia le mani per la traversa colpita da Zigoni bravo a deviare una punizione del capitano catanese per i biancoverdi tuttavia non c'è nemmeno il tempo di disperarsi perché Zappacosta è costretto a rincorrere per oltre 50 metri Jacopino lanciato a rete e fermarlo con un prodigioso intervento scampato il pericolo Lavellino torna ad attaccare a testa bassa e al trentanovesimo sempre Millesi ha su destro la palla del pareggio ma il tiro risulta centrale e Castelli blocca a terra tre minuti dopo in area Brianzora succede di tutto e di più Castelli infatti riesce a respingere il sinistro di Millesi dalla distanza ma successivamente i suoi difensori si immolano davanti a lui ribattendo con le mani prima la conclusione di Ricci e poi quella di De Angelis come se non bastasse al momento di spazzare l'area il pallone finisce nuovamente sul braccio di un difensore ospite ma l'arbitro lascia clamorosamente proseguire le proteste della panchina biancoverde diventano incandescenti a farne le spese Zammuto che rimedia perfino un giallo nella ripresa la squadra di Bucaro torna in campo con la smania di Riaccio fare il pari ma il suo gioco non riesce mai ad essere fluido e nei primi 15 minuti produce solo un tiro in noco di D'Angelo dalla distanza il tecnico di Palermo prova allora a dare una scossa ai suoi richiamando in panca Malaccari e Pezzella per inserire Lasagne e Tiam il senegalese dopo appena due minuti prova a farsi notare ma il suo destro è sbilenco sta di fatto che il 4-2-4 disegnato da Bucaro invece di produrre le palle gol finisce per spegnere ancora di più la luce del gioco biancoverde la squadra per farsi vedere dalle parti di Castelli deve attendere il 25esimo quando sempre D'Angelo trova il barco giusto ma non essendo Tiboni spara alto il numero 11 bianco rosso invece qualche secondo dopo esplode il suo bolide dalla distanza e toglie le ragnatere dal set dell'essere fatto Fumagalli 2-0 per gli ospiti ed Avellino praticamente in bambola con Ricci che si avventura perfino in un dribbling a pochi passi da Fumagalli malgrado ciò un fallo di mano di Zullo al 32esimo concede una chance ai lupi che accorcero le distanze dal dischetto dove De Angelis riassa pure la gioia del gol che gli mancava dall'11 dicembre scorso si tratta comunque di un fuoco di paia dal momento che l'Avellino ad accezione di un numero da circo di Tiam con pallone finito in curva sud non produce più nulla da parte sua il Monza controlla facilmente la partita grazie ad un avversario confusionale stanco che al 95esimo esce a capo chino dal terreno di gioco del partenio Lombardi tra i fischi del deluso e sempre più scarso pubblico di fede bianco verde beh è chiaro che si preparano le partite sempre con l'intento di vincere però sapevamo benissimo che l'Avellino era molto dura perché l'Avellino secondo me è un'ottima squadra è una squadra che se la lasci giocare veramente io devo fare i complimenti all'allenatore e alla squadra li ho visti in due o tre circostanze anche di più con i DVD che abbiamo visionato ha fatto una gran bella impressione anche domenica il Carpi ha giocato molto bene quindi ci siamo organizzati molto bene per subire il meno possibile l'Avellino anche se a tratti l'abbiamo sicuramente subito però poi tutto sommato l'abbiamo contenuti discretamente sono venuti fuori questi due bei gol di Tiboni e ci hanno permesso di portare a casa il bottino pieno mi sembra vedere la partita in toto sicuramente perché l'Avellino sapevamo che avrebbe tenuto il pallino del gioco non ha creato moltissimo onestamente siamo stati bravi a chiudere le traiettorie prima io capisco da come si è ammessi si è ammessi bene nella mia squadra quando vedo la squadra avversaria che spesso ha buttato dei palloni a vuoto cioè quando cercano di giocare palloni filtranti invece sono una zona in cui non c'è nessuno vuol dire che si è ammessi bene le abbiamo costretti un po' a fare queste giocate e si la traversa e un paio di mischi e beh ci stanno bene l'Avellino che succedono poi era la suppunizione una che è venuto fuori un mischione che non finisce mai però si se voleva se avesse fatto il pari l'Avellino non sarebbe successo nulla anzi non avrebbe rubato nulla però insomma dai noi abbiamo fatto due bei gol ci riteniamo li abbiamo capitalizzati avremmo dovuto sfruttare qualche ripartenza di più perché l'ultimo quarto d'ora ne abbiamo avuto due o tre che potevamo veramente chiuderla speriamo teniamoli per domenica prossima a questo punto eccoci in studio dopo gli highlights di Avellino Monza come avete potuto vedere abbiamo anche sentito le parole di mister Gianfranco Motta che ha interrotto momentaneamente il silenzio stampa in cui si è chiusa la società Brianzola al termine del match del Partenio e silenzio stampa che proseguirà anche questa settimana e verrà interrotto nel weekend con le stesse modalità quindi Gianfranco Motta incontrerà i cronisti al termine della rifinitura di sabato e sarà poi disponibile alla stampa nel dopogara del match contro il Taranto parlavamo di un Taranto come giustamente hai presentato tu Marco davvero un brutto cliente soprattutto ricordiamo il dato che fa maggiore impressione i nove gol subiti dalla retroguardia rosso-blu che rappresentano il miglior record europeo a livello di difesa meno battuta fa impressione? sì, una squadra che ha perso una partita sola in tutta la stagione fuori casa e perciò è una squadra fortissima non a caso sta lì al secondo posto cosa fa ben sperare? la prova con carattere che il Monza che i Biancorossi hanno fatto ad Avellino dopo una gara disastrosa in casa e questo fa ben sperare che abbiano trovato un minimo di concentrazione sotto certi aspetti come è già capitato altre volte ha portato bene fare il silenzio stampa e ovviamente sai che nel calcio le scaramanzie si rende il lavoro un po' più difficile si rende una cosa un pochino più complicata se questo vale tre punti facciamola a me questo vuol dire andare avanti con i risultati positivi soprattutto questo tipo di sacrificio anche tutta la stampa e i media di Monza e del circondario possono fare questo tipo di sacrificio se questo può voler dire ritrovare il gruppo ritrovare concentrazione e voglia di tirarsi fuori perché se guardiamo poi la classifica i punti sono 24 e il prossimo obiettivo la Reggiana sta ancora su di tre perciò sono aperti nuovi spiragli il discorso sono aperti nuovi spiragli ma il discorso è ancora veramente complicato per introdurre il discorso sul match contro il Taranto vi facciamo vedere le immagini della gara d'andata nella quale il Monza uscì sconfitto per 2-1 Cambia il Monza rispetto al match contro l'Avellino giocano dall'inizio un appello Palumbo e Damatta solo 38 secondi il Monza passa in vantaggio corner di Romano e deviazione vincente di Cusaro sottoporta Iacovone gelato gli Ionici si gettino avanti al quinto azione personale di Rantier che serve Chodon ma il centrocampista secondo il direttore di gara tocca la palla con la mano commettendo fallo un minuto dopo conclusione della distanza di Chiaretti palla alta in occasione del primo corner per il rosso-blu Castelli si supera bloccando da due passi un tiro di Rantier ci prova ancora Chiaretti al ventitresimo su calcio piazzato palla lontana dallo specchio della porta i biancorossi sono ordinati in fase difensiva con poca distanza tra i reparti di difesa e centrocampo e decisi in ogni contrasto pareggia il Taranto al trentaquattresimo traversone di Rizzi dalla sinistra taglio e conclusione di Chiaretti sul palo difeso da Castelli nonostante i padroni di casa continuino ad attaccare il Monza si difende bene cercando di sorprendere con veloci ripartenze al quarantaquattresimo un appello viene ammonito per proteste 60 secondi di recupero e squadra a riposo ritmi lenti nei primi minuti della ripresa bisogna attendere il settimo quando un colpo di testa di Nantier trova preparato Castelli un minuto dopo tiro angolato di Nappello da fuori area è ribattuto da Sosa il Monza se la gioca a viso aperto al ventesimo applausi a scena aperta per un'azione personale di Sosa ma il tiro del terzino si spegne a fondo campo al ventiseesimo contropiede di Torregrossa bloccato da una scivolata di Colombini spazio anche e ancora per una paratona di Castelli che al trentaduesimo vola deviare il colpo di testa di Girardi a pochi passi della porta ancora attento l'estremo difensore monzese qualche istante dopo sul tiro centrale di Chiaretti bella la rete che regala la vittoria al Taranto al minuto 88 azione personale di Nantier e tiro potente sotto l'incrocio dei pali lo Iacovone esulta tra la disperazione dei biancorossi la vittoria va al Taranto ma il Monza avrebbe strameritato perlomeno il pareggio eccoci in studio dopo le immagini del match di andata dello Iacovone Monza che viene sconfitto per 2-1 speriamo che riesca a ribaltare questo risultato anche se lo ribadiamo è veramente difficile il cliente che si presenta al Brianteo domenica ricordiamo il Taranto imbattuto da 15 giornate Marco anche se ha leggermente frenato nelle ultime 4 la squadra di Dionigi dal momento che è riduce da 4 pari consecutivi un Taranto che recupererà i numerosi squalificati che ha subito come conseguenza della gara contro la Ternana dove riuscì a strappare un punto all'ultimo minuto al liberato di Terni però a caro prezzo vista l'espulsione dello stesso di Dionigi e di numerosi giocatori e soprattutto dal punto di vista dell'organico sarà importante vedere se i pugliesi recupereranno l'elemento di maggior talento a loro disposizione e mi riferisco a Chiaretti che anche è uscito malconcio dal match con la Ternana e ha saltato la gara di domenica scorso contro la Provercelli vedremo un pochino che Taranto sarà sì la squadra ovviamente è fortissima devo dire che però è un girone che può capitare di tutto perché ad esempio nel posticipo di lunedì sera la Ternana che è addirittura la leader del girone non dico che ha faticato comunque ha trovato anche sotto l'acqua questo è vero ma è una partita molto complicata perciò vuol dire che anche il Monza può sperare se con una partita oserei dire quasi perfetta di poter fare il risultato anche con la seconda in classifica quello che piuttosto è complicato è vedere poi il calendario futuro perché nelle prossime nove nelle partite che mancano nella regular season noi dobbiamo incontrare tutte in pratica tolto un paio tutte le prime sette in classifica e questo direi che è un compito veramente complicato un compito che sarebbe più agevole se il Monza avesse di fianco a Tibuoni un certo Gigi Casiraghi che sarà il protagonista della nostra intervista con il grande campione del centenario nella seconda parte di Monzalè adesso ci lasciamo per un piccolo istante di pubblicità Rieccoci in studio dopo la breve interruzione pubblicitaria siamo per mandare in onda una splendida intervista con un grande ex bianco-rosso quindi siamo pronti ad entrare nella nostra classica ormai macchina del tempo a Marcord dei grandi monzesi e quello che fino ad ora è in cima alle classifiche come centravanti preferito nel nostro Monza del secolo del proprio Gigi Casiraghi che da Monza è partito per fare una splendida carriera da bomber vero insomma lo ricordiamo con le maglie dei più grandi club italiani su tutti Juventus e Lazio ovviamente una grande esperienza anche all'estero con il Chelsea e davvero un'intervista con il nostro Alex Mariani in cui si racconta della propria parentesi con la maglia del Monza e racconta soprattutto i momenti topici del suo passaggio dalla Brianza alla Juventus mi dicevi Marco Forionda che avevi qualche particolare interessante in talla lui è stato nel Monza dalla 85 all'89 con 94 presenze e ha segnato ben 28 gol è stato l'artefice della promozione in B del Monza nel 88 che forse direi che è stato il grande capolavoro del Monza in quella in quella promozione e dopo non solo da giocatore facendo i gol ma ha risollevato anche le casse del Monza del presidente Giambelli quando nell'89 ha lasciato il Monza per andare niente popò di meno che alla Juventus e sfruttando i buoni rapporti che Boniperti aveva con il presidente Giambelli venne chiuso questo grande affare che fu per le casse bianco-rosse e lui poi andò a proseguire la sua carriera da Bomber anche nella Juve in nazionale ha fatto una carriera veramente prestigiosa e poi anche da allenatore è arrivato a essere CTI dell'Under 21 ha fatto l'Olimpica insomma ne ha fatte veramente tante per i colori monzese e per i colori azzurri ma ascoltiamo le parole di Gigi Casiraghi intervistato dal nostro Alex Mariani Qual è stato il ricordo più bello il primo dell'esperienza in bianco-rosso? Ricordi tanti insomma anche perché sono stato praticamente dall'età di 10 anni quindi ho fatto tutta la trafila del settore giovanile che sono gli anni sinceramente più belli soprattutto perché sia a livello calcistico ma anche soprattutto come ragazzo e poi l'esordio a 16 anni in serie B forse è stato quello il momento più emozionante il momento più bello e poi gli altri 4 anni due campionati di serie C e due campionati di serie B diciamo che il momento più bello è stato l'esordio e forse la vittoria del campionato e della Coppa Italia nell'anno di Frosio allenatore cosa significava per un giovane ai tempi fare l'esordio con il Monza la squadra comunque importante una squadra ambita con tanti giocatori di prospettiva beh certo il Monza insomma credo che sia tuttora la squadra che ha più presenze nel campionato di serie B quindi anche come settore giovanile era una realtà molto importante il fatto di entrare a far parte del settore giovanile del Monza era un lusso insomma era una cosa ambita da tanti ragazzi insomma perché c'era un'organizzazione c'erano ottimi allenatori e c'era ovviamente la possibilità di esordire più facilmente in prima squadra il ricordo più bello legato a qualche compagno di quel tempo al Monza beh io sono cresciuto con Antonioli siamo dallo stesso anno nel 69 quindi abbiamo fatto tutto il settore giovanile abbiamo esordito più o meno insieme in prima squadra quindi forse lui il giocatore con cui ho legato di più in assoluto insomma poi a Brioschi a Robbiati insomma un diciamo tanti giocatori che sono arrivati dal settore giovanile sono arrivati in prima squadra hai visto nascere anche il progetto legato allo stadio Brianteo a Monza perché poi il Monza giocava nello storico Sada come è stato vissuto quel passaggio da Sada a Brianteo cosa magari era cambiato anche negli occhi dei tifosi piuttosto che della piazza guarda Sada aveva qualcosa di speciale insomma perché comunque era lo stadio lo stadio storico lo stadio comunque dove venivano 4-5 mila spettatori sembrava di giocare veramente in una bolgia quindi ti portava sicuramente qualche punto in più in classifica alla fine della stagione Brianteo è stato qualcosa di nuovo di aspettato da tanto tempo in realtà poi insomma si è arrivato un po' forse una cattedrale nel deserto perché comunque riempire quello stadio forse io l'ho visto soltanto nel giorno dell'inaugurazione forse forse in qualche altra partita ma poco di più sei stato uno dei giocatori più importanti nella storia del Monza indubbiamente anche per quel passaggio dal Monza alla Juventus cosa ti ricordi di quei momenti come è avvenuto poi questo salto in una grande nel nostro calcio come la Juventus io esordi insomma molto giovane a 16 anni quindi ovviamente ero uno dei giovani insieme a Marco Simone che era la via di Rescitte diciamo che ero uno dei giovani alla ribalta del campionato italiano quindi c'erano gli occhi soprattutto di Juventus di Milan di qualche altra squadra di Serie A poi alla fine ovviamente in quel periodo era completamente la società che decideva le sorti dei giocatori e Gianbelli decise di vendermi alla Juventus e credo che feci anche un bel affare in tutti i sensi quindi diciamo che il compito del Monza di quegli anni era di costruire giocatori di costruire eventualmente campioni da vendere a squadre importanti questo il fatto di essere stato forse uno dei giocatori più importanti che ha giocato nel Monza questo è sicuramente un grande orgoglio per me perché sono legato comunque a questa squadra sono legato al territorio perciò è un grande onore dopo la prima parte dell'intervista a Gigi Casiraghi Marco volevo chiederti che centravantiera che tipo di caratteristiche aveva le conosciamo tutti cosa ti piaceva di più di questo giocatore quello che colpiva di più era la grande potenza di questo giocatore che sapeva addirittura trascinare con sé gli avversari quando andavano a marcarlo magari non con una raffinatezza di piede come si può pensare per un altro tipo di centravanti lui non era un centravanti tecnico era un centravanti classico di sfondamento che prendeva palla che giocava sulla profondità fortissimo nel gioco nel gioco aereo nell'accompagnare l'azione nel dare profondità aveva anche un discreto pur essendo anche bello piazzato giochi in acrobazia insomma quello che un allenatore vuole per una punta per una prima punta lui tutte queste caratteristiche li aveva e ha fatto poi giocare anche ha tentato di far giocare anche la sua squadra l'under l'under 21 della quale è stato commissario tecnico anche dando questi tipi di caratteristiche cercando di giocare spesso anche sul contropiede sulla profondità di azione e ti dicevo che i buoni rapporti che c'erano tra il Monza e la Juve erano anche diciamo così per quale motivo perché parecchi della dirigenza della dirigenza monzese di allora a passare dal presidente Giambelli ma prima ancora dal presidente dal Capelletti e dai dirigenti monzesi primo fra tutti anche Galliani erano tutti i juventini ragione per cui era anche facile dover dare qualche giocatore importante alla Juventus proprio per questi buonissimi rapporti che ci sono sempre stati con la Juve sentiamo intanto la seconda parte dell'intervista a Gigi Casiraghi ricordo di un grande presidente come Giambelli sicuramente un presidente che ha portato il Monza ad altissimi livelli qual è il ricordo che ha di Giambelli soprattutto legato anche al passaggio ad una grande dirigenza come può essere quella della Juventus con un presidente importante come aveva a quei tempi cioè il passaggio proprio da un presidente all'altro come è stato Giambelli è stato secondo me un grandissimo presidente magari in quei tempi era alcune volte contestato perché si vuole sempre sempre di più di quello che poi non è la realtà infatti adesso forse c'è il rammarico che non ci sia più lui il passaggio chiaramente tra una società come il Monza e una società come la Juventus è un grande passaggio però io trovai Boniperti che era stato un grandissimo uomo di calcio che però aveva delle affinità con Giambelli perché sono stati due presidenti che due vecchi presidenti insomma che amavano il calcio che amavano la propria squadra che la la gestivano in maniera passionale questo nel calcio da adesso sicuramente è diverso quindi loro sono stati sicuramente due grandi presidenti che hanno fatto veramente bene per le loro squadre parlando di Monza ricordo che hai del tuo allenatore in particolare magari di Frosi o anche di altri allenatori del settore giovanile cosa ti hanno insegnato e cosa ti sei portato poi nella tua carriera degli anni di Monza beh tanto a partire da Mergalli insomma che è stato il primo allenatore che ho avuto a dieci anni negli esordienti fino a Scaccia ho avuto anche tre nini poco nella primavera e Magni insomma che è un mio compaesano visto che Denis Saglia che mi ha fatto esordire in Serie B poi ovviamente ho avuto un ottimo rapporto con Frosi perché comunque è stato l'allenatore forse era anche giovane il fatto poi di aver vinto il campionato la Coppa Italia con una squadra di ragazzi è stato insomma forse l'allenatore con cui ha avuto le soddisfazioni più grosse a Monza un ricordo soprattutto adesso un augurio più che un ricordo al Monza visto che sta vivendo il centenario se lo stai seguendo tuttora e cosa ti auguri per il Monza del centenario guarda io sono stato in tre squadre sono stato nel Monza nella Juve e nella Lazio insomma poi vabbè parte una piccola parentesi nel Chelsea quindi sono le tre squadre ovviamente a cui sono più legato Monza poi in particolar modo perché poi ho iniziato anche a allenare nel settore giovanile quindi c'è un legame forte abito a Monza quindi è una squadra ovviamente che seguo insomma è una delle squadre forse la prima squadra che guardo il risultato alla domenica quindi spero che il centenario possa così dare una spinta in più a questa squadra il fatto di ritornare a quello che si merita cioè almeno il campionato di Serie B che è il campionato comunque dove l'ha vista protagonista per tantissimi anni quindi l'augurio è quello di ritornare al più presto lì è il posto dove gli compete e eccoci in studio dopo la splendida chiacchierata del nostro Alex Mariani con Gigi Casiraghi ritorniamo dall'attualità Marco parlavi di un calendario al di là del prossimo impegno col Taranto davvero probante per il Monza che dovrà incontrare per la maggior parte squadre che ha in questo momento davanti a sé in classifica quindi una rincorsa alla salvezza anche se finalmente si è aperto lo spiraglio salvezza perché per la prima volta possiamo parlarne con cognizione di causa visto che la Reggiana ha solo i tre punti dei Biancorossi è comunque un cammino difficile sicuramente c'è la Reggiana da puntare come obiettivo prossimo futuro per cercare di agganciare questa squadra e poi sperando anche negli scontri che il Monza avrà con Como e Pisa che sono proprio le dirette poi rivali in quella zona di classifica per cercare ovviamente di evitare i play out questo è l'obiettivo ovviamente per il Monza però deve stare attentissimo perché quando incontrerà le famose sette squadre che stanno in alto dovrà trovare la massima concentrazione e ripetere la partita che ha fatto in casa con la Trizium tanto per dire e la trasferta di Avellino di domenica scorsa sperando intanto che le concorrenti ovviamente si possa fermare qualcuno perché evidentemente anche le altre avranno degli scontri diretti e su questo che devi lavorare da qua fino alla fine della stagione in chiusura al volo Marco un pronostico per la sfida contro il Taranto personalmente dico che riusciremo a far gol alla difesa meno battuta d'Europa è un gol speriamo che quello che possa bastare stavolta visto che ha portato buono l'altra volta diciamo di non fare pronostici ma con molte molte speranze è tutto per quanto riguarda questa puntata di Mozzale un grazie a Marco Basoni e un saluto a tutti i tifosi bianco-rossi a lì a tutti i tifosi